Nelle ultime partite contro le Big hai fatto parate strepitose, la squadra ha tenuto meglio, avevate più motivazione forse di fronte a queste grandi squadre? Io penso che ultimamente noi da quando c'è il mister cerchiamo di affrontare le partite un po' tutte nella stessa maniera, soprattutto con la consapevolezza di poter fare punti con tutti, giocando come abbiamo fatto ultimamente, come sappiamo. Poi quello comunque va bene, è importante riuscire a fare punti. Prendete molti meno gol? Quello mi fa piacere, a parte Frosinone che è stata una partita particolare, le ultime sono andate meglio. Si chiude col botto questo 2017, si va a Cremona, come vi state preparando, cosa ti aspetta? Ci si aspetta, io penso, una partita molto difficile, credo una partita tipo Parma, perché la Cremonese lo sta dimostrando, è una squadra importante, sta mettendo in difficoltà tutti praticamente, sia in casa che fuori, quindi sarà una partita difficile. Noi dobbiamo stare concentrati fino a quando non finisce questo giro di andata, perché dobbiamo cercare di fare un risultato importante anche là, per passare bene quei giorni poi di pausa e prepararci al meglio in vista del giro di ritorno.